Enrico Lucci, questo reality come esce fuori? Esce fuori innanzitutto dalla testa di Umberto Alezio che ha avuto questa idea brillante che poi si è sviluppata e ora siamo arrivati dopo tanto averci pensato al momento clou, cioè alla messa in onda. Si rivolge soprattutto, ovvero utilizzate i post sui social di personaggi che volete trattare in trasmissione, però anche il voto è sui social, quindi la possiamo chiamare una trasmissione completamente social? Sì, ma tanto social che io fino all'altro ieri non sapevo neanche cosa significasse, è tutto social ormai e quindi è una trasmissione che cerca di raccontare il Truman Show planetario a cui partecipiamo tutti. Anticipi qualche tema di reality e quindi qualche personaggio legato all'argomento che tratterete che magari sarà in studio sul Trono Girevole? Ma guarda, su tutto quanto ci si arriverà lunedì a capire quello che ci sarà perché vedremo anche quello che il mondo prolifico dei social produrrà, quindi da quello lì decideremo quello che ci sarà in trasmissione. Speriamo le cose più rappresentative della contemporaneità. Le cose che si trovano ovviamente sui social, quindi naturalmente dagli ospiti così che abbiamo un po' visto... Sì, al più scemolo che c'è fino ai rappresentanti del governo. Beh, dopo le elezioni europee non prendiamo in giro sicuramente Salvini, mentre invece sai Di Maio è un po' buffo. Ma poi ecco, a me proprio la parola prendere in giro è una cosa che non ho mai sopportato. Prendere in giro è come scherzo, sono cose che detesto. A me piace sempre raccontare la realtà utilizzando i mezzi che le persone utilizzano e magari capovolgendoli. Io mi sono sempre ispirato al Tenente Colombo, ecco, è la mia figura di riferimento insieme a un'altra che preferisco non dire in questo momento politico. E quindi ecco, mi piace stare lì e utilizzare proprio i metodi che gli assassini usano, quelli che soprattutto si credono tanto furbi, rigirargiglieli contro. Ecco, quello che mi interessa non è prendere in giro, che è una cosa che non mi ha mai piaciuta. Mi piace sempre creare il cortocircuito con le stesse armi utilizzate da chi mi è di fronte. L'obiettivo di questo cortocircuito di cui parli, oltre naturalmente a divertire, perché già sappiamo che sarà un programma che farà ridere e divertire, quale potrebbe essere anche dare un po' una scrollata, dire un po', far capire un po' alla gente che insomma siamo un po' messi male in generale? Guarda, premesso che lasceremo tutti un vuoto colmabile, come diceva Flaiano, quindi qua non c'è nessun Che Guevara che ha la stessa forza e la stessa potenza dell'originale. Facciamo solamente il nostro lavoro, il nostro dovere che da privilegiati si mischia col piacere. E quindi io da quando faccio questo mestiere, da quando ho iniziato da Rete Azzurra di Genzano, ho sempre cercato di fare il più possibile onestamente quello che mi passa per la capa. Poi i risultati spero che siano sempre, e anche le contaminazioni siano sempre positive, civili e progressiste. Il tuo punto di vista ovviamente uscirà fuori, cioè hai un'opinione sugli argomenti che tratti, quindi non sarai neutrale, speriamo almeno. Il punto di vista esce, immagino sempre, ma sempre come il tenente Colombo. Con impermeabile? Sì, con impermeabile il sozzo, la moglie che non si vede mai e il sigaro in mezzo alle dita. Hai voluto tante cose da altre trasmissioni, no? Come i troni girevoli di The Voice, eccetera, eccetera. E invece da Nemo che cosa hai preso, che cosa hai voluto? Da Nemo lo studio, che però non si riconosce. Grazie. 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 Grazie.